Ascolterai musica di grande ispirazione, un messaggio che scalderà il tuo cuore. Sono le parole con cui Jim Simbal, pastore della chiesa Brooklyn Tabernacle di New York, invita i credenti italiani a partecipare agli incontri con i Brooklyn Tabernacle Singers. Il gruppo non è altro che una parte del Brooklyn Tabernacle Choir, coro conosciuto ovunque, per aver prodotto inni che accomunano nella lode al Signore Gesù credenti evangelici di molte nazioni, ad accompagnare il gruppo musicale del pastore Jim Simbal, la Moje Carol, autrice di molti dei testi e dei canti del Brooklyn Tabernacle Choir. Un evento questo che non nasce dalla pianificazione, bensì dalla spontaneità e da una provvidenziale combinazione di fattori che solo Dio avrebbe potuto far collimare in maniera così bella. «E' nato tutto spontaneamente», racconta Fabio Micco, uno degli organizzatori. «Mi trovavo a New York e desideravo partecipare ad un culto al Brooklyn Tabernacle. Da musicista ho sempre apprezzato i loro canti e non essere riuscito a visitare la loro chiesa è stata una delle poche macchie di una visita perfetta alla metropole americana. Ma Dio vede più lontano di noi». Tornato in Italia, infatti, Fabio Micco ha subito lasciato un messaggio sul sito ufficiale della chiesa new yorkese. «Non hanno risposto alla mia mail», ci ha anche detto Fabio Micco, «ma mi hanno telefonato e ci siamo messi d'accordo per organizzare un loro eventuale viaggio in Italia». Così quello che sembrava solo un sogno, pian piano diventava realtà. In pochi giorni Jim e Carol Simbal hanno raccolto le adesioni nella chiesa di New York, affermando che incontrare i credenti d'Italia è stato da sempre un desiderio del coro e che stavano pregando perché ciò diventasse fattibile. L'evento in programma nella nostra penisola non prevede alcun ritorno economico, ma nasce dal desiderio di vedere realizzare in maniera genuina un evento di evangelizzazione di ampia valenza. Non essendo organizzato da nessuna opera evangelica in particolare, gli incontri in agenda prevedono la collaborazione di quanti prenderanno parte tramite un semplice contributo di partecipazione. In poco tempo, quello che era partito come un messaggio personale si è trasformato in una vera e propria rete organizzativa nazionale che ha visto coinvolti i credenti e associazioni di varie città del nostro paese. Gli incontri che vedranno coinvolti il pastore Jim Simbala, la moglie Carol e i Brooklyn Tabernacle Singers saranno in tutto quattro e si terranno nelle due principali città italiane, Roma e Milano. Il 20 giugno presso il teatro Tendastriscia di Roma in Via Perlasca si terrà la prima serata evangelistica. Il 21 giugno nei locali della chiesa Alfa e Omega si terranno un workshop musicale a cura di Carol Simbala e un seminario ministeriale a cura del pastore Jim Simbala. Le tappe lombarde, invece, prevedono il seminario ministeriale il 22 giugno nei locali della chiesa Adi di Lodi e la serata evangelistica che si terrà a Milano presso il Teatro Nuovo il 23 giugno. Per partecipare occorre prenotarsi tramite il sito www.worshipevents.it www.worshipevents.it www.worshipevents.it